Elezioni del sindaco di Isernia, mentre le grandi città già hanno individuato i loro candidati, a Isernia ancora si naviga nella nebbia, soprattutto delicata la posizione del centrodestra, si sente parlare addirittura di due o tre potenziali candidati del centrodestra per chiedere qualcosa in più, qualche indiscrezione. Siamo venuti da Michele Iorio, ascoltiamolo. Sicuramente non sarà facile trovare la soluzione, anche perché Isernia già di per sé ha una situazione originaria delle passate elezioni che non era sicuramente in linea con la situazione di un centrodestra unito. Poi ci sono stati avvenimenti in questi anni che in qualche modo hanno articolato ancora di più il panorama politico della città e io credo che la cosa migliore per Isernia sia quella di individuare una soluzione che vada anche al di là dei soliti circuiti chiusi di centrodestra, centrosinistra o 5 stelle, ma che si pensi a una soluzione complessiva orientata molto sui programmi e sulle scelte ed allargata a chi ci sta. Non c'è bisogno in una città come Isernia, disperata ormai dal punto di vista sociale, economico e del lavoro, avere le differenziazioni ideologiche in consiglio. Bisogna ragionare bene sui programmi, ma poi allargare molto il consenso e cercare di coinvolgere tutte le forze politiche disponibili. Questa è la mia idea e che cercherò di portare avanti concretamente sperando di fare un buon servizio alla città. Un addio quindi al classico centrodestra per un'alleanza civica? Bisogna comunque secondo me andare oltre gli steccati del centrodestra, che sia dato l'incarico ad un esponente di Fratelli d'Italia o comunque che sia Fratelli d'Italia a scegliere il sindaco concordato, discusso. Questo sindaco deve avere il primo compito, deve avere quello di misurarsi sui programmi, sui progetti e aprire alla disponibilità anche fuori dal circuito del centrodestra. Ripeto, una sorta di unità nazionale per Isernia io credo che sia l'unica strada per poter dare una qualche risposta positiva e credere nel futuro. E quando ufficializzerà la sua proposta, Iorio? Lo farò e lo faremo insieme, ufficialmente sicuramente, come Fratelli d'Italia porteremo avanti un discorso molto ma molto significativo, determinato, preciso, nei suoi punti e nel programma. Spero che ci sia disponibilità di tutti, ecco questa è una speranza, altrimenti verificheremo, ci adegueremo, decideremo al momento cosa fare. Avete già in mente un nome per il candidato sindaco di questo fronte comune? Ma non c'è proprio un nome oggi, però credo che la ricerca non sia difficile. Ci vuole una persona che abbia la mente aperta e la disponibilità al dialogo e il rispetto degli altri. Questa è la ricetta, secondo me, per un buon amministratore. Non deve mai discriminare gli altri per come la pensano, deve accettare le critiche, ma deve proporre soluzioni condivise. Non esiste l'uomo solo al potere, perché io credo che sia deleterio. Ne abbiamo abbastanza nel Molise.